Oggi siamo contenti perché conosco lo stadio, conosciamo lo stadio, conosciamo il valore del Milan e anche il momento che sta passando il Milan è favorevole alla loro. Quindi ci teniamo stretto il pareggio, ma negli spogliettori qualcosa ho detto che avremmo potuto fare di più. Perché noi siamo affamati di punti, ci servono. Non è giusto che la mia squadra abbia 16 punti, ma se li ha è perché probabilmente non si è meritata di averne 20, 21, 22. È vero che abbiamo tanti giocatori giovani e la maturazione porta a non sbagliare le scelte, a non sbagliare la misura dell'ultimo passaggio e del passaggio determinante. Però noi dobbiamo diventare subito, velocemente bravi in questa cosa. Boga è un giocatore formidabile, si riuscirà a mettere dentro il suo bagaglio di conoscenza, i compagni e le porte. Quando diventerà, avrà anche la percezione di avere i compagni e la porta avversaria, diventa un top. La mia è una battuta fino a un certo punto, perché se riesce a portarsi a 10, 12, 13 gol stagionali che li può fare tranquillamente, riesce a mettere 6, 7, 10 assist che è nel suo potenziale, trovatemi voi in Italia oggi chi dribbla da fermo in velocità come Boga, chi ti crea la superiorità tanto nominata da voi giornalisti, chi ti scompiglia come fa lui. Il problema è che deve farlo velocemente perché inizia a avere 22 anni, non è perché una squadra vuole giocare e vuole giocare magari con quattro giocatori di qualità avanti e con Locatelli in mezzo a fare i mediani a due, con i terzini che spingono, con due centrali che giocano, allora questo esclude metterci la rogna che dobbiamo mettergli ogni partita. E se lo riusciamo a fare, allora ci viene anche un po' di voglia di andare oltre le nostre qualità momentanea, perché poi questa è una squadra che ha giocatori da un futuro importante. Oggi si è sacrificato su Hernandez fin troppo, ma l'ha fatto bene, perché Berardi era la maglia del Sassuolo, il Milan era l'altra squadra e se viene a Milano è cesta anche che l'attaccante rincora il terzino avversario senza farsi tanti problemi, senza vergogna. Noi dobbiamo fare i punti perché oltre alle prestazioni ci sono i punti nel calcio. La stoccata oggi è mancata nel determinare la partita, nel tiro in porta, quello sì, però ha fatto già tanti gol, mi sembra che sia otto già.